Siamo qui con Davide Crescenzo, presidente del Villa Guardia. Villa Guardia può essere considerata la più grande rivelazione del calcio comasco. Cosa ne pensi? Sì, mi fa molto piacere questa cosa. Ce lo stiamo sentendo dire da parecchi. Siamo molto contenti. Sappiamo che il lavoro fatto fino ad oggi non serve a nulla se da qui in avanti non confermiamo quanto abbiamo fatto da settembre a adesso. Siamo veramente contenti del lavoro che stiamo facendo quest'anno, dei risultati di quest'anno. Ora tutte le squadre vi guarderanno sicuramente con più attenzione? Sì, rispetto all'inizio dell'anno abbiamo visto che con l'andare delle partite sicuramente le squadre hanno sempre posto un'attenzione maggiore nei nostri confronti sotto tanti punti di vista. La cosa più bella è vedere che comunque adesso le squadre rispettano il Villa Guardia vedendo che è una squadra che ha fatto dei buoni risultati dall'inizio dell'anno e quindi questo è un motivo in più per cercare di fare ancora meglio domenica dopo domenica. Immagino che voi non vi sentiate la squadra più forte del campionato? Forse sì. Se non siete voi chi potremmo indicare come squadra favorita? A noi va benissimo il ruolo di rivelazione. Le squadre più forti a nostro parere sono sicuramente l'Andratese, il Cantù e io ci metterei tranquillamente anche il Veniano senza dimenticare il Cistellum. Comunque noi siamo contenti di essere alla rivelazione del campionato. Speriamo di andare avanti così e di portare a casa i risultati positivi da qui al mese di aprile. Va bene, grazie. In bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie a voi.